Sono partiti i primi rimborsi forfettari all'80% per gli obbligazionisti subordinati e azzerati con il salvataggio dello scorso 22 novembre delle vecchie banche Truria, Banca Marche, Carichieti e Cari Ferrara. I primi ad essere rimborsati in quanto primi a presentare istanza sono stati una ventina di risparmiatori dell'Istituto di Credito Aretino. Il fondo interbancario che gestisce il processo ha liquidato le prime 20 pratiche per la maggior parte, spiega Salvatore Paterna, vice direttore generale del fondo interbancario, si tratta di piccolissimi risparmiatori di Banca Etruria. I bondisti in questione partivano da un investimento medio iniziale non superiore a 20.000 euro. Altre 280 domande di indennizzo sono già pronte per essere liquidate, al momento sono circa 800 quelle arrivate al fondo interbancario. Intanto l'Associazione Vittime del Salvabanca continua a far sentire la propria voce. È infatti in programma per domenica prossima, 25 settembre, alle 9.30, una manifestazione di protesta laterina, paese del ministro Maria Elena Boschi e del padre Pierluigi, ex vicepresidente di Banca Etruria.